ciao amici ben ritrovati nel canale vediamo una nuova vita al games quindi vi ricordo che il gioco può causare dipendenza patologica dei vietati minori video solo per un pubblico maggiorenne a livello dimostrativo giusto per intrattenimento meglio sempre non giocare ciao a tutti da angelo vediamo come va con questa nuova vita al games stallo sempre a 60 o per sono vuoti classica 10 euro questo qui è un gioco vecchio che già c'era in quello di tarzan poi è stato riprodotto anche su questa scheda nuovo della vita quindi lo stallo sempre a 60 saluto a tutti un saluto a damiano dalla basilicata ciao damiano antonio della valle delle valli hanno aggiunto delle novità con quei dischi che si vedono ogni tanto bisogna capire cosa fanno qual è la funzione diciamo che penso che dovranno essere in linea nuove vital ma sempre solita pappa adesso vanno in casa si non significa niente se vanno giù soldi perché può pagare in qualsiasi momento vedete questi dischi non si sa che cavolo fanno buon fine settimana a tutti buon fine settimana a tutti una vita una vita siamo a rischio con la falsa partenza però andiamo avanti anche per dimostrare possiamo essere azzerati a meno che ci sia una variante improvvisa niente falsa partenza questo è sì mi vediamo un po' se parte in modo ravvicinato potrebbe essere anche positivo ma non è mai certo finché non abbiamo vite super vite un po' Nella scheda vecchia avevamo Tarzan, questi dischi se non escono in linea mi sa che non ci daranno nulla, devi cambiare ancora, abbiamo cambiato cinquantello. Cambiamo ancora un cinquantino e vediamo un po' cosa fare, al limite se non ci pagherà la dobbiamo lasciare. Comunque avete visto una nuova vital game, sempre le solite porcherie di slot, alla fine appunto si sa, loro si rinnovano, qui c'è scritto vital, si rinnovano ma sempre a loro favore. Un video un po' integrale perché le false partenze non le abbiamo scaricate, ovviamente è bene sempre scaricarle per evitare diciamo ulteriori danni e limitare le perdite. Un video un po' integrale per evitare le perdite. Se stanno male tra una partenza e l'altra mangiano circa 80 euro anche queste. Vi ringrazio, vi ringrazio sempre a tutti per le iscrizioni, mettete like se volete sostenere il canale e le slot svelate e iscrivetevi, cliccate sulla campanellina per essere aggiornati nei video. Ci sono tanti canali di slot ovviamente, ognuno poi fa il suo. chi rimane con slot svelate perché ovviamente fa piacere vedere questi video, c'è chi è contrario e non è obbligato a vederli, nessuno li obbliga. appunto si dimostra in questi video la realtà delle slot è quello che accade. nel lungo periodo, come sapete, si perde. quattro cimi vediamo qua. ok abbiamo ottenuto lo stallo da 60 in poi. in questo momento non veniamo più azzerati, la partita finisce per un fine tempo per una vincita massima oppure dove la slot ci vuole fare arrivare. dove sta, dove stalla insomma. possiamo andare anche veloci per dimostrare che non andiamo a zero. ok. dato che siamo vicino a scadenza tempo ci conviene scaricare. proviamo. ancora qualche euro per vedere se riparte. 7 euro. diciamo che è andata benina perché ci siamo salvati con questo stallo improvviso. vediamo un po'. 12. ci proviamo. siamo entrati finalmente in questo ultralink, vediamo un po' cosa fanno questi dischi. hanno copiato diciamo il discorso crystal tech in questo caso. mamma mia che pena pensavo chissà cosa fosse. e questa diciamo una partenza anche a rischio. abbassiamo il beta 1. se ci vuole ci porta su lo stesso. se ci vuole portare allo stallo qualcosa in più. andiamo avanti dimostriamo. diciamo grossomodo è una rimanenza però dimostriamo fino alla fine sperando che ci sia un'altra variante improvvisa. ripetiamo il beta 3 per i dubbiosi. vediamo se va o c'è zero. infatti è come dicevo io. rimanenza che ci stava. vabbè almeno abbiamo visto anche quei dischi. ok. io direi cari amici di fermarci qui. bella partita comunque su questa nuova vital games. spero di avervi intrattenuto. sempre attenzione con il gioco. e ci aggiorniamo poi a un prossimo video. un saluto e un abbraccio a tutti da angelo. ciao e grazie a tutti.